E si abbassa il cacerecchio di partenza subito Tommaso Bravi del Tarlate che prende il comando Esce fuori a fuoco dalle corsie centrali in questa semifinale numero 1 della cacadone G5 in seguito dall'attesa del team inizia del mate in seconda posizione poi ancora il Talaraggio ma intanto ancora Tommaso Bravi Tommaso Bravi in seconda posizione del 685 e allora abbiamo l'ingardi del Talaraggio e poi abbiamo ancora l'atleta del Pesnade in quarta posizione l'enunciato da Masco questo è il primo quarto posizione per entrare direttamente nella finale A della cacadone G5 seconda segni G5 a cancello autonoma Mazzolini, Rattagli, Mucedi, Matteazzi